Buongiorno, il mio nome è Alberto Soattin ed opero come Field Application Engineer per la parte Embedded Processing in Texas Instruments Italia. Siamo qui oggi per parlare di un nuovo dispositivo che va ad aggiungersi al nostro portafoglio Low Power RE. Il nome del dispositivo è CC1120. Vediamo le caratteristiche. Il CC1120 è un transceiver sub gigahertz che copre tutte le frequenze standardizzate attualmente disponibili in Europa e nel mondo. In particolare copriamo le frequenze del 433, 868 e 915 MHz e la nuova frequenza ISM dei 169 MHz. Le principali caratteristiche del dispositivo CC1120 possono essere condensate in un channel spacing di 12,5 kHz che garantisce performance ottimali per quanto riguarda la caratterizzazione di canale. Dal punto di vista della selettività il dispositivo raggiunge 52 dB di reiezione sul canale adiacente, parametro questo che lo rende particolarmente robusto nei confronti degli interferenti. Dal punto di vista della sensitività l'oggetto raggiunge meno 123 dBm che, uniti ai 14 dB di massima potenza di uscita, garantiscono un 137 dB di link budget totale. Oltre al transceiver CC1120 abbiamo anche la disponibilità di un puro transmitter CC1175 con cui ottimizzare le applicazioni sensibili dal punto di vista del costo. Dal punto di vista dei consumi CC1120 introduce una importante novità. Per quanto riguarda l'RX infatti c'è disponibile una modalità chiamata RRX Sniff Mode in cui l'assorbimento è di soli 3 mA. Infine per quanto riguarda il software la facilità di migrazione dai dispositivi esistenti come CC1101 garantisce ai progettisti un time to market ottimale nell'introduzione del nuovo transceiver. L'application circuit per implementare una soluzione basata su CC1120 è davvero semplice. Oltre al transceiver sarà necessario piazzare il cristallo ed il balloon verso l'antenna, connettendo infine il transceiver verso l'host microcontroller attraverso una connessione SPI. CC1120 è già oggi supportato da un nuovo tool di sviluppo chiamato TRX-EB. La board si interfaccia verso un host PC attraverso un cavo USB e supporta tutti i transceiver low power RF del portafoglio Texas Instruments. In particolare CC1120 è supportato anche dal nostro software Smart RF Studio con il quale è possibile testare tutte le modalità di funzionamento del dispositivo. TRX-EB può anche essere facilmente alimentata a batterie consentendo quindi di effettuare anche test di portata specifici sul campo. Come si vede TRX-EB monta i nostri moduli di sviluppo EMK, i quali per CC1120 sono già oggi in grado di supportare tutte le frequenze disponibili. Per ulteriori approfondimenti sul dispositivo CC1120 e sui tool di sviluppo potete far riferimento al link in sovrimpressione o scriverci all'indirizzo email riportato sulla slide. Vi ringrazio per l'attenzione e buon lavoro con i dispositivi di Low Power RF di Texas Instruments.